Cari amiche e cari amici del clan georgici, ben ritrovati anche oggi in Vivaio. Vi parlo di questi piccoli arbusti appartenenti al genere Erika che possono dare un pochino di colore alla nostra casa, al nostro giardino durante la stagione invernale. Ne parliamo insieme dopo la sigla. Parto subito con una precisazione che quando si parla di Erika va fatta, non confondetela con questa che è la calluna, viene chiamata volgarmente brugo. La calluna differisce dall'Erika sia per il periodo delle fioriture che anche per la morfologia del fiore, ma adesso ve le faccio vedere una vicina all'altra, vedrete che anche le foglie sono molto distinguibili l'una dall'altra. Ultima differenza riguarda anche il fatto che il brugo, come proprio dice il nome, la calluna, è una pianta da brughiera dove di solito c'è sempre un pochino di umidità nel terreno, differentemente l'Erika come vedremo resiste bene anche a terreni asciutti. Generalmente quando si parla di Erika si tende un pochino a fare confusione perché Erika è un genere piuttosto vasto con diverse specie al suo interno e possono esserci delle differenze tra una specie di Erika e l'altra. Io adesso vi faccio una breve panoramica delle tre specie che normalmente teniamo qua in vivaio. Parto da quella un po' meno nota che è l'Erika arborea. Questa è una varietà dell'Erika arborea che si chiama Alberts Gold. L'Erika arborea si chiama proprio così perché sviluppa un albero in natura. L'Erika arborea arriva anche ai 7 metri in 10 anni. È una pianta che troviamo spesso nella zona del bacino mediterraneo, ma soprattutto anche in Africa, anche a latitudini equatoriali. Questa varietà che abbiamo in vivaio, l'Alberts Gold, è una pianta che normalmente non supera dopo 5-10 anni di sviluppo il metro e mezzo, i due metri al massimo. È molto carina questa varietà Alberts Gold perché, come dice proprio il nome della cultivar, tende ad ingiallire un pochino questo fogliame che assume questa bella tonalità verde lime, molto carina secondo me. La fioritura è primaverile, quindi differisce un po' come epoca dalle Erika che andremo a vedere dopo, ed è bianca, profumata. È una pianta che ama le esposizioni soleggiate, resiste tranquillamente anche fino a meno 10 gradi. C'è poi la specie Gracilis dell'Erika, la vediamo qua, Erika Gracilis. Anche se è una pianta compatta, tende a non superare mai i 40-60 cm di altezza, li raggiunge in un paio d'anni. Il colore è rosa carico, ha una fioritura piuttosto estesa che va dall'autunno alla primavera, ama delle posizioni soleggiate, tollera anche la mezz'ombra. Unica accortezza che vi devo segnalare, se andate ad utilizzare Erika Gracilis, non ama il gelo, quindi cercate di tenerla sopra gli 0 gradi. Quelle che invece trovate più comunemente in commercio, sui quali di solito ci concentriamo, sono le cultivar dell'ibrido Erika per darle iensi, sono queste qua che vedete in prima linea. Come tutte le altre sono dei piccoli arbusti, compatti anche questi non superano mai 50-60 cm, hanno tempi di crescita di circa 5 anni per arrivare a pieno sviluppo. La foglia è sempre verde, troviamo invece le colorazioni del fiore a seconda della cultivar, declinate su toni del rosa, del viola, del bianco. Fioriscono dall'inverno alla primavera, vogliono un'esposizione possibilmente di pieno sole, si adattano anche alla mezz'ombra, ma il sole è da preferire, e vi resistono a temperature anche di meno 10-15 gradi. Sono piante che amano avere dei terreni freschi, ma leggeri, ben drenati, con poco ristagno di umidità. Ora, sono specie diverse, però, mi è capitato di vederle nel bosco anche questo fine settimana, che sono andato in Trentino, crescono proprio in questi suoli, che magari sono anche sempre un pochino freschi, un pochino umidi, ma sono molto leggeri, molto ben drenati. E in particolare l'erica cresce bene nelle zone coperte da boschi di aghifoglie, tipicamente connotate da un pH acido del terreno. È una pianta acidofila, ama un pH subacido, acido, ma anche neutro. Per questo, se possiamo, è meglio bagnarle con dell'acqua piovana, dell'acqua demineralizzata, potete utilizzare, ad esempio, quella dei condizionatori. Per anni ho odiato l'erica perché mi morivano sempre. Il problema è che quando vengono messe in vendita, quando le vendo anche io, le trovate sul nostro shop online, venditapianteonline.it, tutte queste piante e migliaia di altre, di solito il vaso è veramente pieno di radici. Consiglio quindi, quando comprate queste piante, di metterle subito a dimora in un terriccio, magari a base torbosa, con pH, come dicevamo, neutro, subacido, acido. Va benissimo anche un terriccio per acidofile. Vanno bene i nostri terricci One e One Plus, che sono belli drenanti, hanno dentro anche la pietra pomice, insomma, però, il substrato deve essere leggero, non deve trattenere troppo l'acqua. Se doveste aver bisogno di acidificare il terreno, esistono dei prodotti, ne abbiamo anche sullo shop. Un modo naturale di abbassare il pH del terreno è coprirlo con gli aghi di pino raccolti. Potete utilizzare un concime durante tutto l'anno per fertilizzarle. Io uso un concime liquido per acidofile, che metto nell'acqua di bagnatura. È vero che l'erica ama delle esposizioni soleggiate, potrebbe soffrire un pochino le alte temperature estive, quindi il massimo è avere delle posizioni luminose durante l'inverno e che magari sono un pochino schermate durante la stagione estiva, soprattutto nelle ore di caldo intenso, tipicamente magari sotto delle piante a foglia caduca. Se invece le utilizzate in balconiera e in fioriera, avete dei supporti mobili e quindi avete qualche margine di manovra in più, potete spostarle durante i mesi dell'anno, spostarle in estate se vedete che stanno prendendo troppa calura. Come dicevo prima, è una pianta che tende a lavorare velocemente con l'apparato radicale, quindi è possibile che ogni anno abbia bisogno di un rinvaso, passate dal vaso in cui è a qualcosa di un pochino più grande, di 2-4 cm per parte più abbondante. È un'operazione che potete fare più o meno quando volete, tendenzialmente potendo scegliere si fa dopo la fioritura, terminata la fioritura. Su degli arbusti un pochino cresciuti si può fare la potatura, è una pianta che fiorisce sul legno nuovo, di conseguenza la potatura fatta sempre alla fine della fioritura può prevedere la rimozione dei rami un pochino più vecchi, un pochino più grossi, più lignificati. Questo aiuta a svecchiare un pochino il cespuglietto e a promuovere la produzione di nuove fioriture nei mesi successivi. Vi è poi da prevedere una mondatura del secco che ci permette di tenere pulita la pianta da tutto quello che è appassito, morente, marcescente. Io non ho dei veri e propri parassiti da segnalarvi perché nella mia esperienza non è che abbia incontrato dei grandi nemici per quanto riguarda l'erica. È una pianta che come vi dicevo muore normalmente perché il terreno rimane sempre zuppo, è molto sensibile al marciume radicale. Adesso andiamo a vedere un attimino come utilizzarla in fioriera per fare una composizione molto semplice. Non sono un garden designer quindi siate clementi, però nello svasare adesso vi faccio vedere un attimino come si presenta l'apparato radicale. Potremmo pensare di usare l'erica ad esempio per fare una fiorierina magari da tenere sul balcone o davanti alla finestra che dia un pochino di colore durante la stagione invernale. Oggi usiamo questa che è bellissima della linea Greenville Dielo, anche questa la trovate sul nostro shop online. Mi sono scelto per questa fioriera un'erica d'Arleyensis, questa è la White Perfection. Ho preso una cugina, la Calluna, ho preso un'erica Arborea Alberts Gold e poi mi sono preso due ederine che fanno un po' di ricadenza pensando di mettere questa fioriera in una posizione un pochino rialzata come dicevo sul balcone o appesa alla ringhiera del terrazzo quindi diamo anche un pochino di ricadenza. Con queste due invece magari le teniamo un po' indietro e slanciamo un pochino in su la composizione. Adesso proviamo un attimino a sistemarle prima di procedere al rinvaso questa sarà sicuramente un po' la protagonista poi magari ai lati ci mettiamo le due edere così e così che scendono giù e poi magari possiamo mettere la Calluna qua dietro e l'altra erica magari la mettiamo qua anzi queste due qua le cambio mettiamo la Calluna di qua e l'erica di qua vediamo cosa ne pensate vabbè può essere una cosa carina procediamo. Come dicevo abbiamo bisogno di un terriccio ben drenato io ho sfoderato il top dei top quindi andrò ad usare One Plus iniziamo a fare la base avete messo l'argilla espansa sul fondo della fioriera? ah beccati se avete messo l'argilla espansa sul fondo della fioriera vi auguro cocciniglia cotonosa tutto l'anno no sto scherzando quella non si augura a nessuno però se non sapete il perché non va messa l'argilla espansa sul fondo dei vasi delle fioriere vi lascio qua sopra il link al nostro video in cui ne parlo mi raccomando è importante non mettere l'argilla espansa sul fondo usiamo piuttosto un bel terriccio drenato come questo qua come il One Plus guardate ha dentro al suo interno già del materiale grossolano della pietra pomice che aiuta il drenaggio come vi dicevo prima vedete come l'apparato radicale sulla superficie della zolla di questi vasi è molto 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 fitto ci sono tante radici e quindi vado un pochino a scioglierle ci facciamo aiutare magari da una lama in modo da liberare un pochino l'apparato radicale andiamo a posizionare l'erica che sarà un pochino protagonista e quindi le diamo questa parte centrale e la mettiamo anche un pochino magari a spalzo verso l'esterno anche la sua cugina Calluna è la classica pianta che quando l'acquistate va subito rinvasata forse ancor più dell'erica ha bisogno di andare subito in un nuovo vaso un pochino più alle larghe qua invece ci mettiamo l'ederina variegata ci dà un po' quella ricadenza che cercavo mi piace anche il bianco del fiore dell'erica con la variegatura dell'edera da questa parte invece giochiamo un po' di più con le tonalità dei verdi quindi mettiamo un'edera con foglia verde scura e poi dietro ci mettiamo la nostra erica alberts gold con questo verde un pochino più lime secondo me fa un bellissimo contrasto ci sono altri abbinamenti che secondo me con l'erica vanno benissimo ad esempio le schimmia sia la schimmia revesiana ma anche la schimmia la rubella con queste belle infiorescenze in boccio che sembrano i fuochi d'artificio anche se sono delle piante che esprimono il loro top durante la stagione invernale gli eleboli anche vi funzionano molto bene e a me un altro abbinamento che non dispiace è con delle graminace come questo carex variegato che ho trovato lì fuori in vivaio bene clan georgici spero che questo video vi sia piaciuto ho scritto qualcosina in più se volete andare a curiosare sull'articolo che ho postato nel nostro blog il link è qui sotto qua sotto al video trovate anche tutti i link per acquistare tutte le piante tutti i prodotti tutti i materiali che abbiamo utilizzato se il video è stato di vostro interesse lasciate un mi piace se non l'avete già fatto iscrivetevi al nostro canale youtube noi ci vediamo la prossima settimana ricordando che il nostro hashtag è sempre lo stesso make the jungle iscrivetevi al nostro canale